Nicola Loiodici, attaccante dell'Odace Cerignola, un buon cammino per voi sin qui. I risultati si vedono di domenica in domenica. Sì, sicuramente domenica abbiamo fatto una grande vittoria sul campo dell'Altamura, che comunque non è facile. Andare a vincere ad Altamura è difficile. Noi ci abbiamo messo tutto per portarci a casa i tre punti. E niente, domenica dopo domenica dobbiamo cercare di portarci sempre i tre punti a casa, perché stiamo lavorando da ritiro e penso che domenica dopo domenica stiamo dimostrando il nostro valore. Anche domenica scorsa ad Altamura c'è stata una tua firma importante, stagione sin qui positiva anche a livello personale. Sì, sono contento a livello personale, però sono contento che ci portiamo i tre punti a casa, che è la cosa fondamentale, perché il nostro obiettivo è vincere il campionato e noi domenica dopo domenica dobbiamo fare il possibile per portarci i tre punti a casa. Poi chi segna può segnare anche un difensore, è lo stesso, quindi per noi è importante vincere. Comincia a far freddo, anche se sicuramente domenica qui allo stadio Monterisi ci sarà il calore di un pubblico galvanizzato da quel meno due dalla vetta, e mi riferisco all'attuale classifica del Gironi H di Serie D, da non sottovalutare la Gelbison. Domenica abbiamo una partita importante, giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, non possiamo sbagliare. Dobbiamo portarci i tre punti a casa, anche se non è facile, ci dobbiamo mettere sempre del nostro. Ogni domenica dobbiamo dimostrare il nostro valore, a prescindere dalla squadra che viene qua. Può essere il Picerno, può essere il Granata, per noi sono tutti uguali. Dobbiamo solo cercare di portare sempre i tre punti a casa. Mister Dino Bitetto, allenatore dell'audace Cerignola. Un'altra vittoria importante domenica scorsa contro il team Altamura. Non era facile, soprattutto per via di un manto erboso che era ridotto ad un vero e proprio acquitrino. Beh sì, è stata la prima gara dove abbiamo giocato su un campo molto allentato dalla pioggia. E devo dire che è stata una partita più muscolare che tecnica, anche se sotto tanti aspetti noi stiamo continuando, di carattere tecnico e anche tattico, stiamo continuando ad esprimere un buon calcio. Quel meno due dalla testa della classifica che cosa significa? Dobbiamo dare continuità, significa che noi siamo lì. Domenica abbiamo dato prova anche di forza in questo, della forza e di volontà che abbiamo di voler essere protagonisti fino alla fine. Per poterlo essere bisogna dare continuità come cercheremo già domenica prossima di fare. Questo momento difficile che sta attraversando il Taranto ad esempio? Un momento difficile, lo passiamo un po' tutti insomma. È normale che ci possa anche capitare in un campionato. Al di là di questo, sinceramente guardo anche meno a quelle che sono le vicissitudini o anche le belle realtà come vedi anche Picerno, ma anche tante altre che secondo me fino alla fine rientreranno in quelle squadre, in quelle solite 4-5 squadre che poi si contenderanno il primato fino alla fine. Domenica al Monterisi di Cerignola arriva la Gelbison, sicuramente c'è da fare attenzione ad un avversario che sì, è nei bassi fondi della classifica, ma è proprio di quegli avversari che bisogna preoccuparsi in gara da prendere con le dovute pinze. Assolutamente, assolutamente. Per dare continuità, come dicevo prima, non bisogna assolutamente allentare l'attenzione e anche la concentrazione su quello che è l'obiettivo che ci siamo preposti. Per cui non dobbiamo assolutamente sottovalutare nessuno. Noi dobbiamo semplicemente avere, come dico spesso, sempre maggiore consapevolezza in quelle che sono le nostre capacità. Sono tante e le dobbiamo esprimere contro qualsiasi avversario. Però per fare questo, come dicevo all'inizio, ci vuole sempre comunque la solita concentrazione che ci stiamo mettendo, soprattutto in queste ultime gare. Non che le precedenti siano state diverse, però adesso abbiamo trovato anche un equilibrio maggiore, sia nella fase di possesso che di non possesso. C'è Cerignola che ricordiamo deve ancora affrontare la Z Picerno, che dal canto suo ha delle sfide parecchio difficili sul finire del girone d'andata. Cerignola è soltanto una, ma ci sono anche impegni importanti come Taranto e Bitondo. Sì, però l'impegno maggiore ce l'abbiamo noi domenica. Grazie.